Salve colleghi, in questo tutorial provo a mostrarvi come scaricare e utilizzare una estensione di Meet che è l'applicazione che ormai avete imparato ad usare per le video lezioni con gli alunni questa estensione si chiama MeetGridView, è un'estensione che non è, un'estensione è in pratica un optional uno strumento aggiuntivo che non è previsto nel pacchetto base di Meet, non ha alcun costo però e scaricandolo ci permette di ampliare le funzionalità della videoconferenza che cosa intendo? Ci permette di superare una difficoltà che molti di noi hanno segnalato che Meet ha a differenza di altre piattaforme di videoconferenza vale a dire il fatto che non ci permette di guardare contemporaneamente tutti gli alunni che stanno partecipando alla nostra video lezione provo a chiarirmi, questa è la schermata che tutti quanti voi conoscete nel momento in cui dovete avviare una conferenza su Meet io in questo momento ho disattivato microfono e telecamera perché non mi interessano tutti voi sapete accendere questa funzione e questa è la schermata che vi ritrovate di fronte di solito ci siete voi quando avete attivato appunto la fotocamera in questa videata ora, quando i vostri alunni si collegano voi non avete mai la possibilità di guardarli tutti contemporaneamente ma, ecco, clicco qui in basso i possibili layout che di default Meet prevede sono questi cioè è possibile o visualizzare soltanto la persona che sta parlando in evidenza o visualizzare una griglia con 3-4 schermi massimo 3-4 persone massimo o, cosa che accade più di frequente quando fate lezione c'è uno schermo più ampio dove viene visualizzata la persona che sta parlando di volta in volta e un massimo di 3-4 riquadri a fianco che vi danno in diretta la, diciamo, l'immagine di 3-4 alunni se invece vogliamo visualizzare un altro alunno in particolare per sapere, insomma, se ci sta seguendo mentre spieghiamo, ad esempio siamo costretti a cliccare qui e selezionare qui, ovviamente si ritrova di solito la lista degli alunni selezionarlo e andare a controllare quella singola persona ora, Google Grid View ci permette invece di visualizzare tutta la classe come se stessimo effettivamente facendo lezione quindi una griglia con una serie di riquadri divisa in una serie di riquadri che ci mostrano quindi l'immagine di tutte le videocamere di tutti gli alunni che hanno attivato appunto la videocamera come si scarica Meet Grid View? è semplicissimo, ve lo mostro è sufficiente cercare sul motore di ricerca Google Google Meet Grid View appunto cercando queste parole la prima voce che troveremo è appunto quella ufficiale Google Meet Grid View cliccando su questa voce trovate questa estensione che installerete semplicemente da questo tasto allora, in questo caso io l'ho già installata perciò mi dice rimuovi da Google Chrome in realtà voi troverete installa su Google Chrome dovete stare ovviamente attenti ad accedere con il vostro indirizzo ufficiale il vostro account ufficiale in questo caso io appunto devo modificare quindi con il mio indirizzo ufficiale della scuola posso installare o rimuovere dal mio Google Chrome basterà semplicemente cliccare e da quel momento troverete questo nuovo contrassegno Google Meet Grid View nella vostra barra delle applicazioni barra degli strumenti qui in alto dopodiché entrando su Meet semplicemente troverete questo contrassegno che prima non avevate vedete, posso abilitarlo o disabilitarlo e mi permette di abilitare la visione a griglia o di disabilitarla ci sono anche delle altre sotto funzioni da poter fleggare che sono la prima ci dice se la seleziono mi mostrerà soltanto i partecipanti che hanno la fotocamera attivata perché qualcuno potrebbe partecipare solo in audio e quindi in quel caso non mi mostrerà il suo riquadro oppure le altre voci mi chiede di sottolineare la presenza di coloro che parlano o di includere eventualmente anche me stesso all'interno della griglia quindi attraverso queste sotto funzioni io potrò poi personalizzare la mia visione della classe intera spero che sia stato abbastanza chiaro l'installazione è veramente molto semplice e la funzione sicuramente ci permette di fare più agevolmente lezioni in videoconferenza su Meet e la funzione sicuramente lezioni